Nelle ultime due sere sono stati 90 gli uomini impegnati di protezione civile sul campo ad intervenire sulle varie situazioni che si sono create a causa del maltempo. Maltempo che in particolar modo ha recato dei danni di media entità, fortunatamente senza nessun ferito o situazioni gravi. Quindi anche questa notte si è proceduto assieme al comando dei vigili del fuoco di Venezia con supporti anche provenienti da Padova e Treviso a fare diversi interventi sul territorio, circa una cinquantina in terraferma e altrettanto più o meno in quel di Venezia centro storico. Un intenso nubifragio, vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sul veneziano nelle ultime due serate. 150 le chiamate ai vigili del fuoco, molte dal centro storico veneziano. Parliamo soprattutto di alberi caduti, di comignoli pericolanti, parliamo anche di qualche incendio, in particolare quello dell'isola del Certosa che ha aggredito un cantiere, però fortunatamente grazie al lavoro dei vigili del fuoco è stato circoscritto e domato. Altre chiamate sono giunte per piante pericolanti e sgombero di sedi stradali a Mestre, Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea, Jesolo. Diversi veicoli sono stati danneggiati da rammi di alberi spezzati. A Favaro Veneto invece sono stati danneggiati i cavi del tram, per cui a CTV ha attivato provvisoriamente il servizio automobilistico sostitutivo sull'intera rete. In aiuto ai vigili del fuoco hanno operato complessivamente 30 volontari domenica sera e circa 60 lunedì. Sono una risorsa fondamentale e colgo sempre l'occasione per ringraziarli perché sono uomini di vero cuore che fanno volontariato ma al tempo stesso molto preparati e specializzati nei vari settori.